Eterogenea, cosmopolita, in continua evoluzione, è Londra. Una città che non stanca mai, anticipatrice di tendenze, declinate e rivisitate poi dal resto d'Europa. Un percorso alla scoperta di nuovi indirizzi up-to-date che inizia dalla zona dei Docklands. Ieri area degradata, oggi laboratorio di progetti, nuovi luoghi dell'abitare e del ritrovo. Non lontano dai grattacieli di Connery Wharf, per la precisione in Cold Harbor, troviamo The Gun, vista sul Tamigi e atmosfera tipicamente Old England.